Bentornati ragazzi quest'oggi andremo a vedere la seconda parte un pelo più corposa di quella precedente per quanto riguarda la creazione di stampe multicolore col metodo inverso se non hai ancora visto fermati subito qua vai a vedere la prima parte perché dopo rischi di perderti un sacco di passaggi dopo la prima parte la trovi linkata qui in alto viene fuori un pop up da qualche parte nel video e qui sotto nella descrizione del video trovi il link immediatamente allora come al solito ribadisco sì il mio intento non è farvi fare dei portachiavi e insegnarvi a fare i portachiavi ma è farvi vedere questa tecnica come realizzarla e poi dopo sta a voi applicarla ai casi più disparati cover gadgetistica portachiavi che ne so altre cose in genere e quindi il video è un po più corposetto di quello dell'altra volta perché qui prenderemo in esame idea maker brusa slicer e simplify 3d sostanzialmente cosa dobbiamo andare a fare prendere i modelli 3d dell'altra volta quelli che abbiamo realizzato e che abbiamo esportato quindi non vi spiegherò come esportarli o cose del genere e andremo a realizzare principalmente due file ecco il metodo che utilizzo io che ho visto che è un po più semplice da utilizzare è quello dei due file distinti e da lanciare due stampe in due momenti differenti ogni slicer ha i suoi pro i suoi contro va bene o male per chi mi dice quale devo utilizzare vi dico la pappa e quella insomma utilizzate quello con cui vi trovate meglio però in molti mi hanno detto fai il video su prusa e fai il video su simplify lo faccio anche su idea maker quindi prendo tutti e tra gli slicer che nessun altro ha mai utile ha mai preso in esame e ti spiego per filo e per segno come funzionano gli allineamenti i raggruppamenti la gestione degli override tutta quanta una serie di cose che potrebbero venervi comodo anche per molte altre stampe non solo per queste cazzatine ovviamente questo video è stata una grandissima richiesta da parte dei patrons ho ricevuto anche tante richieste private da parte dei patrons le ringrazio veramente tantissimo perché ogni giorno supportano il canale se non sai che cos'è patreon qui in alto ti compare il link oppure in descrizione trovi il link per sapere che cos'è patreon come eventualmente supportare il canale ricordati inoltre che se non vuoi guardarti tutto il video qui sotto nella descrizione trovi tutti quanti i capitoli quindi se non vuoi vederti prusa idea maker ma vuoi vederti simplify 3d clicchi e vai direttamente alla parte relativa a simplify 3d sarà mezz'oretta di video quindi o troguardi tutto oppure schippi direttamente dove ti interessa scegliere uno slicer o l'altro se stiamo parlando di della stampa di un logo alla volta quindi un ciondolino un portachiavi alla volta scegliete quello con cui vi trovate meglio le funzionalità bene o male sono le stesse in tutti tanto quello che dobbiamo andare a fare che cos'è esportare due file separati quello di un colore quello dell'altro colore e poi andarli a stampare in due momenti differenti vabbè quello è quello il punto quando invece si tratta di stampare e di impiattare più loghi contemporaneamente ecco lì non dico loghi differenti però lo stesso logo ripetuto in un array quindi in una griglia ecco a quel punto prusa slicer e simplify 3d quindi mostrano un po il fianco per quanto riguarda le caratteristiche di allineamento degli oggetti ed è un po un'artura di scatole andarli poi a selezionare esportare eccetera eccetera idea maker invece è il top da questo punto di vista e però direi andiamo a vedere nel dettaglio come funziona prima di tutto idea maker poi prusa e poi simplify 3d dallo scorso video ti avevo insegnato a esportare correttamente due due stl separati uno per il logo e uno per la base o in genere uno per colore ok poi dopo vedi tu come organizzarti ad ogni modo vi faccio vedere ti faccio vedere come funziona l'allineamento qui dentro in idea maker ad esempio io posso importare questo logo prova e base prova come vedi lui te li importa separati anche se li abbiamo selezionati in contemporanea quello che ci resta da fare è andare a selezionarli tutti e due con il tasto control premuto e scusate il tasto shift premuto oppure premendo control a ti seleziona tutto e dopo col tasto destro andiamo a cercare la funzione allinea modelli selezionati questo caso qua lui cosa fa prende e ci va ad allineare nelle rispettive origini il diciamo non nelle rispettive origini ma ci va allineare il file come è stato disegnato all'interno dello slicer quindi in questa cosa qua non abbiamo problemi di disallineamento adesso qui non si vede moltissimo purtroppo però se faccio uno slice andate a vedere qui troverete tutto quanto allineato senza avere particolari problemi e stessa cosa vale quando importato un 3mf ma il 3mf è di suo già allineato tutto quanto quando importati file è molto importante andare a guardare l'albero diciamo delle degli oggetti una funzione c'è un comando che non tutti utilizzano e queste tre linee che vedete qua a sinistra vi va a dire esattamente che cosa avete all'interno del piatto quindi voi potete tranquillamente allinearli e poi per vedere chi c'è sotto a cosa dovete per forza di cosa attivare questo alberello qui qui potete vedere tutti gli oggetti che sono stati inseriti potete andarli a selezionare anche se in realtà sono nascosti dall'oggetto al di sopra di dall'oggetto al di sopra per attivarli e nasconderli vi conviene attivare questa spunta qui e in automatico potete andarli ad attivare o disattivare adesso capirete immediatamente il perché allora quando si tratta di andare a fare la stampa inversa noi dovremo prima stampare il bianco quindi come prima cosa andiamo a nascondere la base lei automaticamente già allineata e ci concentriamo prima di tutto sul sul logo allora qui avete due strade voi potete tranquillamente andare a prendere il vostro profilo di stampa come abbiamo visto nei vecchi video che vi invito a guardare se non l'avete vista eccetera eccetera e andate a modificare i singoli parametri che adesso andremo a vedere principalmente l'altezza layer che deve essere impostata 0.1 mm perché come vi dicevo l'altezza di questo di questo logo qui è 0.2 adesso non la vedete ora dovreste vederla perché mi sono spostato qui a sinistra e vedete l'oggetto è fatto da 0.2 mm di altezza quindi in questo caso qua adesso dobbiamo andare ad impostare lo slicer di conseguenza tutto quello che dirò per idea maker poi dopo lo porteremo anche negli altri slicer quindi ti vai a impostare l'altezza layer 0.1 la first layer 8 quindi l'altezza del primo layer depositato a 0.1 e poi dopo puoi andarti a gestire tutta quanta la parte relativa ai flussi alle larghezze di estrusione quindi puoi giocare anche con diverse larghezze di estrusione magari puoi provare se hai un logo molto sottile a lavorare su una under extrusion farlo lavorare un po' più sottile ma in genere diciamo che tutti questi parametri qui dell'estrusione del flusso e tutte queste cose qua te le gestisci in base a quanto il logo è complicato perché ad esempio questo qui di help 3d è stato dimensionato correttamente non dovevo fare particolari magheggi ma importando altri loghi un po' più complicati dopo vi farò vedere potrebbe essere necessario andare a regolare la larghezza di estrusione fatto questo una volta che avete fatto tutti quanti i vostri parametri eccetera eccetera non vi basta vi basta fare solamente il cosiddetto slice lui vi dà l'errore un errore un avviso vi dice i modelli non attivati non verranno non verrà fatto lo slice degli modelli non attivati cioè quelli che avevamo nascosto prima vi ricordate non verranno fatto lo slice gli diamo ok si lui parte e ci fa vedete un gcode smilzo di della parte relativa al colore quindi il logo del colore scelto al momento vedete qui è un solo strato perché non ho modificato i valori ero dimenticato scusatemi quindi metto ad esempio 0.1 qui e 0.1 qui eccolo qui gli rifaccio lo slice e automaticamente vedrete che ci ritroveremo da stampare uno e due strati eccoli qua perfetto questo qui un file che prendete lo salvate insomma date un'occhiata vedete che tutti quanti i diciamo i buchini siano chiusi correttamente eccetera eccetera salvate il file lo salvate come che ne so bianco perché deve essere di colore bianco oppure insomma il nome che volete quindi avrete un primo file da da tenere in considerazione per quanto riguarda invece la base fate la stessa identica cosa quindi fate close preview la base non ha bisogno di essere stampata con altezza layer particolari possiamo partire direttamente dal layer dall'altezza layer 0.2 millimetri quindi il primo strato può essere tranquillamente dal 0.2 millimetri 0.2 millimetri e questa qui diciamo che è una stampa abbastanza normale in alcuni casi sarebbe opportuno attivare che cosa il cosiddetto z hop lo z hop è quello che vedete qui a video è praticamente ad ogni spostamento ad ogni retraction che cosa fa lui alza di x millimetri lo impostate qui direttamente in z hop retraction l'ugello per evitare di impattare su quello che è già stato depositato è molto comodo perché effettivamente se siete un po troppo schiacciati come primo layer del logo del colore potrebbe effettivamente magari come vedete in questa immagine sporca un pochettino perché l'ugello passa tocca le crestine di quello già depositato e insomma vi sporca un po' tutto con lo z hop attivato vedete la differenza il logo è un po' più nitido ok l'unica cosa è che vi rallenta parecchio la stampa vi insomma potrebbe rompere le scatole se avete un milione di loghi stampati quindi lo z hop va attivato esclusivamente quando si sta facendo la base che include tutto ok non il logo il logo semplice volendo potete anche attivarlo per il logo però non è diciamo necessario al cento percento e dopo in realtà è una stampa normale quindi come cioè lei cresce perché ad esempio qui avete un portachiavi ma se avete che ne so una cover è inutile stampare tutta la cover a 0.1 millimetri qui dategli i classici le classiche classiche altezze layer l'unica cosa stare attenti alla altezza del layer primario tenerla quanto i due layer che abbiamo depositato precedentemente quindi se abbiamo utilizzato due layer da 0.1 ovviamente abbiamo fuori 0.2 però va bene detto questo quando avete fatto questa cosa qua andate a riattivare solamente la base nascondete il logo quindi volendo questi qua potete rinominarli vi basta andare sul tasto destro fare rename e li richiamate come come preferite in questo caso qua quindi nascondiamo il bianco in questo caso e andiamo a dargli dopo lo slice andate a vedere sotto mi raccomando ovviamente lo dico ma lo do quasi per scontato disattivati i supporti ovviamente perché siete mesi attivati i supporti qui mi fa i supporti sia qui che nella parte vedete dove avevo questo sbalzino qui della della cornicetta eccetera eccetera e quindi disattivati i supporti e disattivate se possibile bridge vedete qui ad esempio adesso il bridge attivato vi farò vedere tra breve come fare tutte queste cose qua senza diventare matti ok e quindi disattivate bridge disattivate il supporto disattivate eventuali brim lasciate la skirt questa sì fondamentale ricordatevi toglierla tra una stampa e l'altra mi raccomando e però è fondamentale perché aiuta a spurgare bene l'ugello prima di arrivare sul pezzo quando stampa fatto questo esportate anche il secondo file quindi chiamate base quello che volete e avete due file gli istinti ora vi basta prendere e mandarli in stampa quindi mandate in stampa prima il logo finita la stampa togliete la skirt cambiate il lugello cambiate il colore fate spurgare bene e fate ripartire prima però di proseguire bene fare una doverosissima precisazione una cosa molto interessante che non tutti dicono è che quando abbiamo questo bella farino qui il tastatore c'è una piccola procedura da fare ovvero quando passate da un gcode all'altro quindi da un colore all'altro inevitabilmente avrete i pezzi sul piano di stampa quindi o vi abituate a metterli in modo tale che quando parte la stampa l'azzeramento iniziale in z viene fatto in un punto vuoto della stampa oppure del piano scusatemi oppure dovete far sì che questo azzeramento non venga quindi nello start gcode ve lo spiegherò più avanti come fare andrà tolto il comando g28 e però andrà fatta anche una cosa alla fine della stampa precedente in particolare modo che cosa non va per nessun motivo spostato il carrello in z quando si finisce la stampa precedente altrimenti si falsa tutta quanta diciamo la calibrazione e sostanzialmente il g28 che cosa serve serve alla macchina a capire in che punto è nello spazio quindi g28 azzera l'asse x l'asse y e la z e poi riparte a stampare se ovviamente lei azzera su un pezzo che è già presente sul piano azzera più alto e quindi la stampa non attacca sul piano evitandogli g28 quindi evitandogli l'azzeramento lui non partirà non tasterà e quindi non partirà più alto e ricordatevi che fin tanto che non spegnete la stampante non muovete a mano il carrello quindi non la spostate dal fine stampa lei terrà le ultime coordinate che ha registrato tra virgolette in memoria quindi lei sa già quali sono i suoi zeri e non ha bisogno di azzerarsi come ad ogni inizio stampa per chi invece ha il classico manual mesh bed level non serve a fare nulla perché fondamentalmente non c'è nulla che tasta e basta quindi fatela partire come se fosse una normalissima seconda stampa tanto il logo depositato è non più di 0.4 mm quindi sicuramente non impatterà contro in realtà c'è da dire che anche se muovete a mano l'xy quindi il il carrello qui sopra o il piano sotto poco cambia perché va beh gli si può dire solamente di fare un g28 in x e in y ed evitare la z il comando lo vedremo più tardi e il punto qual è che potrebbero potrebbero lo dico non sempre però in video si vede in questo caso potrebbero esserci dei disallineamenti questo perché quando si va a resettare magari che ne so il carrello purtroppo la ripetibilità dei fine corsa non è il massimo ok su queste stampanti quindi un piccolo shift un piccolo spostamento di qualche decimo di millimetro qualche centesimo si potrebbe notare nelle stampe quindi nel dubbio togliete qualsiasi tipo di m84 dalla fine della stampa precedente lasciate i motori in tensione e poi ripartite con la stampa nuova però andiamo a vederlo nel dettaglio qui la decisione vostra potete aprire il profilo di stampa andare dentro al vostro start ed ng code e andare a modificarlo temporaneamente togliendo il g28 oppure eventualmente l m84 e i comandi per togliere la diciamo quelle che spengono l'estrusore e il piano di stampa io vi consiglio piuttosto che mettere mano al g code allo start g code che poi dopo vi perdete anche per le stampe successive di aprire direttamente il tutto con notepad plus plus oppure sublime text e ve lo andate a modificare allora tranne la prima stampa quindi ad esempio io parto dal bianco che ne so e lascio il g28 nella prima stampa perché partiamo da stampante spenta ovviamente deve deve azzerarsi la macchina e deve sapere in che punto è esattamente quello che possiamo andare a fare invece è andare a vedere alla fine del file quindi verso dove c'è praticamente l'end g code dopo remaining in time di solito questo qui è idea maker ma in genere ve lo andate a cercare insomma se sapete come aprire un g code in genere sapete anche che cos'è un energy code e se non lo sapete c'è un video che ho fatto qui in alto e ve lo andate a dare un'occhiata direttamente quello che vi consiglio come vi dicevo essendo una stampa successiva andrei a togliere la m84 sicuramente andrei a togliere tutti quanti i comandi di spegnimento degli estrusori e del piano modo tale che per la stampa successiva li abbiamo già in tiro scusate in tiro già già in caldo e come se qualcuno ha eventuali g28 alla fine della stampa consiglio di toglierli e di mettere piuttosto un comando g1 che è il comando di spostamento classico metterlo ad esempio y 150 x 150 f 1000 va più che bene perché è una velocità abbastanza bassa e come z metterei un 100 perché questa z praticamente ci permetterà al piano di spostarsi in mezzo e di alzare il la z a 10 centimetri così avremo tutto il tempo di tutto lo spazio più che il tempo di spurgare l'ugello senza che questo rimanga attaccato al piano di stampa magari e non avendo la m84 praticamente i motori restano in tensione quindi anche se provate andare a muovere loro non si muovono ok quindi fatto questo se non c'è la m84 voi potete sgagnare tutto quello che volete mettere sul filamento nuovo poi quando partirà con la nuova stampa ad esempio squid rosso vedete dovete andare a salvare lo squid rosso con senza luci 28 e basta per il resto non c'è particolari problemi intanto lui appena becca la prima coordinata della x della y della z si riporta di conseguenza perché ripeto l'azzeramento è stato fatto nel primo file non abbiamo spostato il carrello quindi lui sa esattamente come tenere gli zeri di riferimento sul secondo file dobbiamo fare la stessa identica cosa andare a togliere l'm84 finale rimodificare eventualmente le coordinate di spostamento finali quindi y 150 x 150 e poi mettere z 100 e infine dovete andare a salvato ovviamente tutto eccetera eccetera dopo il scontato togliete anche il discorso del raffreddamento dell'ugello e dopo come cosa finale la base ovviamente che è l'ultima che andrete a fare vi basta semplicemente togliere g 28 tutto il resto nel ng code bene frega nulla perché tanto dopo va tutto ad esaurimento sembrava scontato però effettivamente se avete il tastatore in realtà me ne sono accolto perché la prima stampa che ho fatto detto caspio ho lasciato i pezzi su e adazzerato su quindi in realtà da una mia cappella ho detto aspetta che meglio se glielo ricordo a tutti quanti non si sa mai andiamo nella parte avanzata del video e per quanto riguarda l'utilizzo dei cosiddetti group and layer settings che in molti mi avete chiesto a che cacchio servono ecco ho trovato un bellissimo utilizzo di questa funzionalità qua proprio quando si utilizzano queste stampe di tipo a colori ed è una funzionalità molto comoda da richiamare anche quando si sta salvando un file e lo si sta riaprendo e queste impostazioni verranno fuori in automatico adesso vi verrà fuori vi verrà chiaro tutto quanto a breve ipotizziamo che il nostro template quindi il nostro profilo abbia determinati valori di stampa e non abbiamo balle di andarli a toccare non vogliamo romperci le scatole a fare magheggi strani sul profilo e quindi vogliamo lavorare con i cosiddetti override un po' come quando vi ho insegnato nei vecchi video a utilizzarli che ne so per i profili del filamento o cose del genere una sorta di queste cose qua si sono degli override effettivamente li possiamo andare a gestire direttamente quando lavoriamo con diversi tipi di sono come i processi praticamente di del vecchio simplify 3d praticamente ad ogni stl noi possiamo ogni file caricato nel piatto possiamo dedicare delle impostazioni di stampa differenti questo vuol dire che ad esempio noi possiamo creare un nuovo gruppo vedete adesso di default lui vi carica tutto in un gruppo lo potete rinominare con la matitina lo andiamo a rinominare lo chiamiamo ad esempio base ok io posso creare un secondo gruppo in questo caso qui e lo chiamiamo ad esempio logo questo logo qui ovviamente dobbiamo trasferire il file del logo che da me si chiama portachiavi patrons bianco lo devo portare nel nuovo nel nuovo logo direttore nel nuovo diciamo nel nuovo gruppo lo porto di qua e sono a posto quindi io mi ritrovo sostanzialmente con due gruppi distinti con i loro relativi stl all'interno ora fatto questo clicco su uno dei file all'interno della base e inizio a mettere le mani sui parametri che voglio andare a mettere dentro quindi nella base partiamo prima dal sì partiamo dalla base ad esempio ho detto prima bridging io mi cerco bridging 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 enable eccolo qui non lo voglio abilitato quindi tutto quello che noi andiamo a disabilitare da qua non verrà modificato nel profilo principale quindi sono dei cosiddetti override temporanei che fintanto che sono attivi qui in questa schermata andranno a sovrascrivere dall'altra parte senza modificare il profilo di stampa cosa molto molto comoda potete andare a mettere ad esempio supporti support generate support eccetera eccetera e li mettete come non eccetera eccetera adesso io senza starvi a far vedere tutti quanti i parametri come aggiungerli vi faccio vedere un'altra cosa ancora molto molto più interessante adesso io cancello tutto clear group ok mi dico di non salvare io precedentemente tutto quello che ho creato lo posso esportare cioè quando mi creo tutti quanti gli override eccetera eccetera me li posso esportare come configurazione vedete export local disk ma la stessa identica cosa me li posso importare quindi io posso importare un gruppo che ho creato precedentemente vedete multicolor override setting group trovate il link nella descrizione del video per poterlo caricare e vedere che cosa ho modificato ma ad ogni modo eccolo qui si dico apri in automatico vedete mi crea due gruppi in automatico non è detto che l'assegnazione dei file sia corretta quindi ve li mette un po random vi basterà entrare con la matitina dentro e spostarli uno da una parte uno dall'altra e se avete anche più gruppi perché potete avere più colori e tranquillamente o diverse impostazioni ricordatevi di entrare con la matitina e di spostare i relativi file nei relativi gruppi ecco fatevi uno screenshot di queste cose qui e di questi parametri sostanzialmente nei loghi che cosa gli ho detto io ho imposto che il primo layer di stampa deve essere da 0 1 mm e i successivi devono essere da 0.1 mm posso giocare con l'extrusion width perché molte volte posso avere che ne so ad esempio proviamo a nascondere questo lasciamo la base e il logo e andiamo a lavorare ad esempio di extrusion width per il per il logo se gli metto un extrusion width da che ne so 50 per cento su entrambi guardate cosa succede praticamente io vado a vedermi il primo strato eccolo qui guardate come cambia praticamente io sto lavorando con una larghezza di estrusione dei tracciati in under extrusion al 50 per cento sto facendo un valore estremo perché guardate il layer dopo vedete ritorna ritorna normale guardate 1 e no 2 1 e no 2 insomma potete fare varie prove vedere lavorare in under extrusion o in over e sì in under extrusion o in over extrusion come come va meglio per il filamento che state utilizzando mi raccomando anche il diametro del filo inserito correttamente qui c'è anche il discorso della retraction specialmente per quando stiamo lavorando sul sul logo mettete un po più di retraction per evitare che nei pezzettini piccoli vi crei dei peletti e soprattutto la minimal travel of retraction mettetela non dico il più bassa possibile però un millimetro va più che bene e cosa fondamentale andate a ridurre la velocità di stampa ok 20 mm al secondo perché con loghi molto piccolini potrebbe essere necessario effettivamente farli andare farli aderire meglio andando più lenti e anche diminuite la velocità dei singoli movimenti dei movimenti scusate a vuoto quando non estrude quindi se dovete aggiungere dei valori dei parametri vi basterà premere su più ve li andate a cercare e li inserite poi dopo quando avete finito tutto vi basterà fare un bel export tutto local disk e questa questa impostazione qui vi rimarrà salvata la potrete richiamare quando vorrete ricordatevi di andare ad gestire semplicemente i file caricati dentro idem per la base e nella base ho messo la first layer 8 vincolata 0.2 mm quindi primo strato a 0 2 e quello che vi dirò tra poco in merito alla finitura è molto molto cioè consigliabilissimo per un discorso di finitura andare a mettere praticamente nel nella base quando inizia a fare praticamente il primo strato un solo layer di loop al primo strato quindi se andate a vedere il primo strato depositato eccolo qui vedete attorno alle lettere vi faccio fare esclusivamente un loop e poi riempimento ma lo capirete più tardi quando vi faccio vedere qualche qualche risultato ricordati eventualmente anche di abilitare la z hop come ti ho detto prima qui la puoi limitare esclusivamente alla sola base vedi basta aggiungere il parametro volendo puoi anche dire vabbè a me interessa la z hop solo nei primi millimetri potresti andarla ma qui sarà oggetto di un altro video volendo potresti andare inserire un altro override con il per layer settings cioè potresti dirgli da una certa altezza in poi non mi attivare più la lo z hop in questo caso qua preferirei non spiegarvelo perché magari vi crea ancora più confusione di quella che probabilmente avrete già però vedete insomma mi basterà z hop e qua lo andate sostanzialmente a disattivare ho già provato e funziona correttamente per chi invece ha una stampa di tipo doppia quindi una parte inversa inglobata una parte classica con il cambio layer a un certo punto cambio colore a un determinato layer quello che vi posso consigliare è semplicemente fatto uno slice del pezzo andate a vedere dove c'è il cambio di layer eccolo qui vedete qui inizia la scritta quindi qui dovrebbe riprendere il bianco vi prendete nota qui sotto vedete 3.2 mm questo è il valore che poi dovrete andare inserire dove lo andate inserire nel profilo di stampa in questo caso non ci sono gli override per questo andate nel profilo di stampa andate all'interno della voce other altro e gli mettete il valore 3.2 mm add pause point ora che cosa inserisce a 3.2 mm lui andrà a inserire questa cosa qui quello che avete inserito all'interno della tab stampante sotto la voce advanced e qui dentro pause at height gcode nel mio caso ho messo un m600 nessuno vi vieta di mettere come in un vecchio script che avevo messo di pausa potete mettere uno script di pausa random che vi siete generati quindi lui in automatico a 3.2 mm prima di iniziare col bianco vi metterà questo codice qua direttamente alla fine della fiera il risultato potrebbe essere questo tutto sommato apprezzabile accettabile tranne questo piccolo punticino qui perché sono entrato di taglio con la con la spatolina e quindi si è tolto è un layer veramente sottile depositato quello che mi premeva farvi vedere è ovviamente guardate la differenza in termini di resa vedete che qui c'è qualche qualche buchetto in questi punti qui mentre qui è bello spalmato ed era una stampa unica qui è semplicemente ho variato l'altezza del primo strato in modo tale da mostrarvi come può variare o meno la definizione di un oggetto in particolare lo vedete nelle parti piccole e soprattutto mi raccomando più rimanete diciamo schiacciati e meno evitate che si stacchino pezzi come il 3 che vedete qui a video dall'altra parte invece non c'è nulla da segnalare di grosso come vedete la differenza rispetto a una stampa sul primo strato la stampa nell'ultimo strato è sempre un po più po più bruttina quella quella al primo strato è decisamente migliore a vedersi e l'unico difetto che riscontro qui è relativo vedete questo segnaccio che ha lasciato il diciamo l'ugello in fase di spostamento errore mio potevo tranquillamente tenere attivo lo z top in questo punto in modo tale che non andava a segnarmi il l'ultimo strato questo oggetto qui invece come vedete presenta una parte più opaca una parte più lucida questa qui è sempre stato stampato sul piano in vetro con lacca quindi questa qui è la parte come esce ovviamente qualsiasi diciamo asperità sul piano viene ricalcata sul primo strato e qui invece l'ho semplicemente carteggiato quindi un po messo un po di nastro carta di qua e qui ho carteggiato e come vedete la differenza ci può essere rispetto a un utilizzo che ne so del dimafix che è questo qui del logo alp3d che è un pelo più opaco se utilizzate invece dei piani textured viene fuori ancora un'altra un'altra diciamo un altro effetto adesso in casa non ho piani textured potrei metterlo sull'X2 però sta lavorando per altre cose quindi non ce l'avevo libera mi raccomando anche questo test qui che trovate nel download vi aiuta a capire anche come siete livellati perché pezzi così piccoli ad esempio potreste vedere questo angolo corretto e questo angolo troppo schiacciato e quindi capite immediatamente che lavorare con layer da zero uno è veramente difficile che perché basta che il piano sia o leggermente slivellato oppure semplicemente non uniforme e ritrovate delle figure completamente sballate quando ci sono diciamo pezzi piccolini quindi diciamo dettagli piccolini da riprodurre non a caso questi porta chiavi sono stati ridimensionati correttamente guardate prendendo ad esempio uno un po più piccolo la resa del logo è è differente ovviamente meno meno definita rispetto rispetto a quella che può essere di un logo di logo un po più grande ad ogni modo un'altra precisazione è quella relativa all'utilizzo dei loop ve l'ho fatto vedere poco fa anche con lo slicer e vedete ad esempio questo dragone qui ha tre loop quando va a costruire la base quindi vuol dire che attorno al logo rosso lo metto in controluce appositamente per farvi vedere l'effetto praticamente eccolo qui qui si vede bene vedete questa parte un po più nera tra virgolette non è bellissima da vedere questi qua sono i loop praticamente alla base che vi ho detto prima di metterne uno e non tre infatti vedete la differenza con il logo help 3d che ne ha solamente uno attorno vedete e dopo da quelli superiori prosegue con con due o tre loop insomma che mettete però vedete la differenza tra utilizzare uno o tre loop è fondamentale per la resa per la resa estetica per quanto riguarda invece l'utilizzo di altezze di loghi superiori a 0 2 come vi dicevo prima e anche nell'altro video fate attenzione perché ad esempio questo qui è un logo fatto con una diciamo un'incastonatura da 0 4 non da 0 2 quindi vuol dire quattro strati da 0.1 mm come vedete qui viene fuori un po più sporchetto queste qua sono parti relative a magari una retraction non regolata bene ma si viene a sporcare tutto non è per nulla nitido qui mi è saltata una lettera diciamo che non è il massimo quindi ho provato 0 2 ottimo c'è da dire che l'ho utilizzato con un nozzle e 3d quindi molto largo di battuta sarebbe stato il caso di provarlo con lo con un nozzle tipo quelli della race o comunque un nozzle da aerografo e vedere con 1 0 4 o superiori come poteva effettivamente venire fuori altra cosa da dire è in merito all'utilizzo dei colori come vedete questi qua sono delle delle traghette senza il retro vedete quindi il layer bianco depositato vedete quasi in trasparenza si vede bene ovviamente quando andate a mettergli che ne so semplicemente uno strato di nero dietro guardate come cambia il bianco quindi anche nella scelta dei colori prendete dei colori il più coprenti possibili il bianco è sempre una rogna perché come vedete quando spurgate dal nero al bianco rimarrà sempre un po grigetto e anche se diventa bianco poi dopo in trasparenza purtroppo si vedrà sempre il nero e quindi tenderà ad ingrigire quindi occhio alla scelta dei colori per il logo primario e per quello che andrete a mettere dietro quando invece andiamo a realizzare più loghi quindi non solo uno come vedete qui sul piano di stampa ma un array cosa conviene fare conviene innanzitutto importarli sicuramente allinearli ne avete uno direttamente li selezionate entrambi e poi cosa andate a fare andate a cliccare col tasto destro e andate a cliccare su array l'abbiamo già visto negli altri video fate che ne so una griglia 3x3 3x3 date il distanziamento tra un logo e l'altro e date ok vi ritrovate un bel 9 portachiavi sul piano di stampa e automaticamente vi ritrovate anche tutti quanti i file qui ok l'unico svantaggio è che se adesso ritornate negli override che abbiamo visto prima potrebbe essere problematico dovete in realtà prendere andare a metterli uno da una parte uno dall'altra vedete quindi il bianco dovete metterlo lasciarlo nel bianco dei loghi il base dovete riportarlo di qua eccetera eccetera potete fare o questo metodo qui che è validissimo oppure sfruttare una delle funzionalità di idea maker molto comoda che è quella di poter gruppare tutti quanti i loghi e gestirli in maniera indipendente quindi ad esempio tengo premuto il tasto control vado a selezionare tutte le basi di base 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 e una volta che ho fatto questo clicco qui in mezzo col tasto destro e gli dico merge selected models praticamente lui mi prende questi questi nove file che ho fatto e li rimette in un unico file vedete adesso li posso tranquillamente andare a nascondere e far riapparire questo qui è comodo perché ogni volta dovete quando fate l'export andare a prenderli selezionare uno a uno ed è una rottura di scatole ok stessa identica cosa premo shift fino in fondo gli do posso anche nascondere questo qua giusto per comodità gli do tasto destro merge selected models se non trovate qui col tasto destro andate su model eccolo qui e andate su merge selected models qui stesse identiche cose di prima ci ritroviamo sostanzialmente due file pronti per per essere diciamo sliceati a nostro piacere e soprattutto per essere trattati e essere nascosti o resi visibili all'occorrenza idem quando andiamo direttamente dopo vedete negli override possiamo entrare qui dentro e ad esempio vedete la base possiamo spostarla nella base con un solo clic senza dover ogni volta stare lì a cliccare tutti quanti i file singoli prendete nota perché queste funzionalità qui non ce le hanno Prusa Slicer e Simplify 3D quindi è l'unico con cui mi sono trovato benissimo per fare questo tipo di cose passiamo a Prusa Slicer io ho la 2.4.0 Alpha 3 in realtà funziona anche quella 2.3 quindi non vi deve preoccupare più di tanto come ho detto nel precedente video Prusa ha un piccolissimo problema di allineamento quando importate i file diciamo distinti quindi ad esempio io ho loghino piccolo e base di loghino eccolo qui vi ho fatto vederla già l'altra volta praticamente lui li va a disallineare non sono allineati correttamente se io faccio uno slice e vado a vedere vedete non sono allineati correttamente i due file come è possibile allinearli questi due qui allora io vi consiglio di partire innanzitutto parto da un nuovo file, un nuovo progetto importo la base e sulla base poi dopo che cosa vado a fare? tasto destro sull'oggetto e vado a fare aggiungi parte aggiungi parte io prendo il logo relativo a questa base praticamente e in automatico lui me lo va a allineare secondo le coordinate con cui abbiamo disegnato eccolo qui vedete ce lo ritroviamo automaticamente allineato qui a destra cambia molto avere due oggetti separati oppure un oggetto formato da più parti sentite bene cosa ho detto oggetto è questa cosa qui questo qui possiamo avere più oggetti e ogni oggetto alla sua volta potrebbe avere più parti al suo interno l'unico svantaggio è che quando un oggetto è formato da più parti purtroppo noi non possiamo andarle a disattivare singolarmente ma solamente se sono diciamo oggetti separati quindi in questo caso qua cosa ci serve fare? lo vedremo più tardi ci basterà cancellare uno o l'altro e abbiamo automaticamente gli oggetti allineati perché il problema di PrusaSlicer sta proprio nell'allineamento quindi quando abbiamo fatto questo noi abbiamo gli oggetti allineati tutto ok se si tratta di fare un array come vi dicevo prima qui è un po' una rottura di scatole perché bisognerebbe andare a fare un copia e incolla di tutto e sì funziona quello qui potete fare tranquillamente un array con un copia e incolla quindi CTRL-C, CTRL-V potete caricarne quanti ne volete vedete CTRL-C, CTRL-V vedete che ve ne mette giù più oggetti con le relativi parti all'interno poi dopo quando cliccate su Disponi lui in automatico ve li dispone sul piano se cliccate col tasto destro dentro Disponi potete anche gestire la spaziatura eventualmente e il punto qual è? che dopo se dovete andare a nascondere esclusivamente la base oppure solamente il coso mi si chiama la base oppure solamente il logo di tutti cos'è il problema? che dovete andarvi a cancellare ogni volta ed è un po' una rottura di scatole il problema non si pone invece quando avete loghi di questo tipo vedete in questo caso qua praticamente la cornicetta è identica alla cornicetta esterna di questo e quindi in automatico le due origini si allineano senza grossi problemi quando li importate quindi guardate se io faccio un import di nuovo per questo tipo di oggetti non ci sono problemi però l'importante è che condividano diciamo la stessa shape esterna e quindi Prusa Slicer in automatico ve li va ad allineare senza grossi problemi l'altro problema che però si pone con Prusa è che se dobbiamo andare a applicare i cosiddetti modificatori che abbiamo visto prima quindi non vi sto a rispiegare che cosa dovete fare e cosa non dovete fare ma se dovete ad esempio andare a mettere che ne so l'altezza layer del solo primo strato ecco su Prusa non è detto che sia possibile inserirla perché quando noi andiamo a cliccare su questa iconcina qui relativa all'oggetto che stiamo andando a modificare e andiamo a fare aggiungi impostazioni oppure layer perimetri quello che volete lui purtroppo ci permette di selezionare limitati parametri non è come su Idea Maker dove possiamo mettere praticamente un parametro per tutto quindi l'idea di utilizzare i modificatori in Prusa Slicer non è il massimo perché non li avete tutti fate molto molto prima che cosa andare a prendere e modificarvi il profilo principale quindi andate dentro impostazioni di stampa ricordatevi l'altezza del primo layer e l'altezza del layer di tutti quanti gli altri vi andate a modificare l'extrusion width e poi che cosa fate? nascondete uno o l'altro oggetto quindi in questo caso partiamo che ne so dalla base potete anche invece di nasconderli potete cancellarli non ve ne importa nulla quindi cancellate e esportate esclusivamente questo quindi fate processa ora andate a fare l'export e siete a posto quando invece dovete rifare la base CTRL Z tornate indietro e ricancellate esclusivamente il bianco rifate lo slice e andate in export direttamente questa è una procedura abbastanza semplice non c'è nessun problema vi faccio un piccolo appunto per quanto riguarda la M600 quando dovete arrivare a un determinato livello qui per fare il cambio in alto vedete eccolo qui qui col tasto più che vedete potete andare ad aggiungere il cambio colore in automatico lui mette un cambio colore M600 con la spunta più se invece andate a cliccare col tasto destro sul più vedete potete decidere se mettere un G-code personalizzato l'M601 oppure l'M600 con il G-code personalizzato funziona un po' come su Idea Maker e quindi ve lo andate a piazzare come volete sì lo so che è un po' una rottura di scatole la gestione in questo caso degli allineamenti lo so l'ho trovata abbastanza macchinosa in realtà anche perché quando unite i corpi non è come su Idea Maker è veramente proprio completamente distinto faccio l'esempio con il loghino piccolo e la base di prima ad esempio io faccio così ho la base loghino se mi ritrovo nella situazione in cui non ho i due occhietti distinti cioè io devo andare a allineare questo con il suo logo se io lo importo a parte vi ho fatto vedere prima non lo allinea correttamente devo fare aggiungi parte carica mi dico loghino piccolo e adesso è allineato perfettamente ecco se io dovesse andare a stampare questo purtroppo qui cosa devo fare non c'è più l'occhietto da disattivare o attivare qui devo semplicemente cancellare la parte che non mi interessa puoi ritornare indietro col CTRL Z però almeno sono sicuro in questo caso che tutto è allineato correttamente altro da dire sinceramente in merito a Prusa Slicer se non il grossissimo vantaggio di utilizzare diciamo l'anteprima visuale per il cambio colore quella che vi ho fatto prima per il resto insomma decidete voi se utilizzare eventuali modificatori perché come vedete i modificatori purtroppo quando avete una parte con cioè un oggetto con due parti distinti purtroppo i modificatori si vanno a ridurre ulteriormente già ce ne sono meno rispetto Idea Maker anche quando lavorate con due diciamo con due parti distinte e qui andate a ridurli quindi non è il massimo utilizzare gli override in questo caso su Simplify 3D in realtà si ritorna un po' come su Idea Maker per quanto riguarda l'allineamento molto comodo perché ci basta importare che ne so due loghi distinti senza tanti problemi vedete loro sono disallineati li selezioniamo tutti e due andiamo su Edit e andiamo su Align Selected Model Origins e funziona come su Align Models di Idea Maker stessa identica cosa qui vale la stessa regola di Prusa Slicer per quanto riguarda la generazione degli array ecco utilizzate questo programma se state facendo un logo alla volta si possono fare anche più loghi alla volta ma il groupage dopo è difficile non ve lo spiego perché è più complicato degli altri che abbiamo visto quindi che cosa si fa in questo caso con Simplify 3D per generare una stampa inversa e 2G code qui automaticamente abbiamo l'albero dove ci permette di diciamo di attivare o disattivare i loghi quello che dobbiamo andare a fare è creare due processi distinti uno per il bianco e uno per il nero ad esempio quindi lo chiamo ad esempio processo 1 lo chiamo bianco ovviamente andate a farvi tutte quante le modifiche che vi ho consigliato prima layer first layer 8 la devi mettere ad esempio qua stai lavorando con il bianco devi mettere tutto quanto a 0.1 mm questa qui deve essere al 100% perché altrimenti te la sballa ok quindi mi raccomando chi sa usare Simplify 3D lo sa già tutte queste cose qua quindi ti riprendi tutto quello che ho detto di Idea Maker e lo applichi a questi parametri qui qui non ci sono override da mettere semplicemente un processo di stampa ha diciamo una vita propria non non viene toccato il profilo principale e tutto quello che viene toccato all'interno del processo fin tanto che non andate a salvare il profilo non viene sovrascritto quindi voi dovete creare un primo diciamo processo di stampa chiamato bianco gli dite Select Models quali modelli devono andare all'interno di questo processo di stampa quindi in questo caso è logino piccolo potete modificare le Retraction lo Z-OP potete fare quello che volete si chiama Retraction Vertical Lift su Simplify 3D lo Z-OP che vi dicevo prima e una volta che avete finito questo create un secondo processo di stampa mi raccomando a non avere Layer Modification Start Printing Get 8 o cose emanate del genere e andate a rinominarlo lo mettete come base eccolo qui e qui selezioniamo di nuovo ad esempio solo la base a questo punto quando voi andate a fare praticamente lo slice del pezzo adesso non mi ero sì lo ho selezionato giusto quanto andate a fare Prepare to Print lui che cosa vi chiede tu vuoi fare quale dei due o tutti quale processo vuoi fare lo slicing tu vai come al solito come ho detto prima parti dal bianco gli dai l'ok e lui ti fa lo slicing solamente dal bianco fai il Save Tool Path e sei a posto nota di merito per quanto riguarda Simplify 3D è attualmente nella mia lista diciamo top list per quanto riguarda la generazione delle pareti sottili c'è poco da fare come Simplify 3D per la generazione di loghi piccoli o menatine del genere Idea Maker e Prusa devono ancora lavorarci Prusa ci si sta avvicinando Idea Maker è ancora distante Simplify 3D per quanto mi riguarda il top genera veramente bene diciamo le pareti sottili quindi fatto il primo salvato il toolpath dopo semplicemente gli ridate la seconda cosa selezionando esclusivamente la base date a vedere la base mi raccomando disattivati i supporti tutto quanto il bridging eventualmente e via discorrendo quindi ricordatevi le altezze layer tutto quello che ho detto per Idea Maker deve essere rapportato anche negli altri slicer sono stato di parola come hai visto il video non è propriamente corto però ho cercato di coprire un po' tutti gli aspetti relativi a questo tipo di stampa inversa e se qualcosa non ti è chiaro ricordati di scriverlo qui sotto nei commenti se il video ti è piaciuto un bel mi piace fa sempre piacere se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al canale attivare la campanellina e ovviamente per i patrons grazie tantissimo a tutti i patrons se non sapete che cos'è patron dategli un'occhiata direttamente all'interno del canale patria vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.